Va avanti l'impegno di CTT Nord nel rinnovo della flotta, grazie a tre nuovi bus che entreranno in servizio sulle linee ex-urbane nel bacino di Massa Carrara, portando a 165 il numero di nuovi bus entrati in servizio dal 2015. Un intervento molto mirato, sono tre bus piccoli che faranno tutte queste destinazioni, non sono gli ultimi perché ne sono in arrivo altri, nel giro del prossimo mese ne arriveranno altri tre, ci saranno ulteriori potenziamenti nell'arco dell'anno, anche sul servizio urbano sono in arrivo dei bus provenienti da altri bacini dove sono stati inseriti mezzi nuovi, ma quelli semi nuovi del 2015 saranno portati sempre in attesa di recuperare gli 11 bus nuovi che abbiamo fermato in maniera precauzionale per avere l'ok dalla magistratura per poterli riutilizzare. Quindi diciamo che nell'arco del 2019 si completerà un piano di investimenti abbastanza significativo che ci consentirà di riallineare anche il parco di Massa Carrara a quello che è più o meno standard regionale. Sono un po' di pazienza ma piano piano come vedete ci stiamo arrivando. Si tratta di tre bus da 19 posti che vanno a sostituire mezzi molto vecchi con un deciso miglioramento sul piano delle emissioni inquinanti e del comfort per gli utenti. Un ulteriore risultato positivo del contratto ponte sottoscritto dalla regione toscana con Scar One che prevede ulteriori investimenti per il rinnovo e l'ammodernamento dei bus per tutto il 2019. Esprimo soddisfazione per l'entrata in servizio di questi tre nuovi mezzi che significano maggiore comfort, maggiore sicurezza e anche minore impatto ambientale. Sono figli del contratto ponte che è stato siglato dalla regione con le aziende che si sono riunite in questo consorzio Scar One e che ha la durata di due anni. Questo contratto ha riaperto i canali di credito nei confronti delle aziende e consentirà a loro di rinnovare la flotta in Toscana per circa 180 mezzi. I quali se ne aggiungono altri 270-280 che sono oggetto del cofinanziamento da parte della regione con oltre 13-14 milioni di euro. Quindi andiamo ad anticipare quelle che erano le previsioni del capitolato di gara in atteso che si perfezioni il contenzioso. Il capitolato di gara prevedeva nei primi due anni l'afflusso di 180 mezzi nuovi in cui in realtà ne arriveranno attraverso il contratto ponte circa 350. Saranno aggiuntivi a quelli che successivamente dovranno essere forniti da chi risulterà il vincitore. Grazie a tutti.